e alle 20.30, mentre le serie finali inizieranno a partire da martedì alle ore 15.30 e alle 20.30. Comunico che sabato 15 settembre alle ore 16 presso la sala comunale Dora Bassi di Via Garibali 7 saranno presentati dai rispettivi autori o curatori, Flavio Iquali, Pietro Zappalà e Piero Niro, cinque spartiti musicali editi dall'Associazione Culturale Maestro Rodolfo Lipitzer Onlus con sillabe SRL, con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali alla presenza tra gli altri dei sette membri della giuria del 37esimo concorso internazionale di violino premio Rodolfo Lipitzer. Segnalo inoltre che tutte le selezioni e la serata conclusiva con il concerto dei laureati sono visibili su Youtube canale.trivento scrivendo Lipitzer 2018, canale al quale siete invitati ad iscrivervi per sostenere il concorso. Gli stessi video sono visibili anche sulla pagina Lipitzer di Facebook. Moreover, I informi che i video di tutte le audizioni e i finali concerti saranno disponibili su Youtube canale.trivento writing Lipitzer 2018. You are invited to subscribe to this channel to support the competition. The same videos will be also available on the Lipitzer page on Facebook. Passo al quinto concorrente. Jovanov Janvier, nazionalità kazakka, cittadinanza kazakka, di anni 21, che eseguirà nell'ordine di Johann Sebastian Bach, l'adagio e fuga dalla prima sonata in sol minore, di Rodolfo Lipitzer le variazioni allegro, comodo e allegro sostenuto dalla tecnica superiore del violino, di Wolfgang Amadeus Mozart, il concerto della maggiore KV219 primo movimento e cadenza di Josef Joachim, di Camillo Sigori, lo studio capriccio numero 8, per violino solo dai 12 studi capricci opera 25, revisione di Fulvio Luciano. Sarà accompagnato dal pianista ufficiale del concorso, Eugenie Sinaischi. Vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi auguro un buon ascolto. Arrivederci e grazie. 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 Grazie.